Il cosiddetto Palazzo del Convitto è l'aggregato pubblico più grande della città, 16.000 metri quadrati nel cuore del centro storico di proprietà della provincia dell'Aquila e del Convitto e in minima parte anche della Camera di Commercio, fermi al 6 apilio 2009. Un importo dei lavori di 40 milioni di euro per il suo recupero. Dentro il cosiddetto quarto cantone c'erano gli uffici di presidenza della provincia, il liceo classico, il Convitto Nazionale e la Biblioteca Provinciale. Attualmente si sta terminando la procedura di verifica della progettazione esecutiva del primo stralcio. Una volta ultimata questa fase si potrà procedere con la gara d'appalto per i lavori. Venerdì scorso una riunione nella sede della provincia a Via Montecagno con i tecnici del Proveditorato della Repubblica per fare il punto della situazione. Entro la fine dell'anno si augura al presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, avverrà la posa della prima pieta per il primo lotto dei lavori. L'intervento di distrutturazione e di consolidamento, tutti quelli che sono gli interventi, si declina in due parti. Un primo lotto di 22 milioni per il quale quando meno possiamo oggi affermare una certa soddisfazione perché ha completato tutto l'iter approvativo. Si sta acquisendo soltanto la validazione che è l'ultimo elemento che caratterizza la chiusura della cantirabilità. E quindi procederemo a breve alla pubblicazione dell'avviso di gara. Secondo l'otto è di 20 milioni di euro e riguarda proprio il cuore, la parte più interna dell'edificio e proprio la parte destinata al convitto. Per il quale nella riunione scorsa abbiamo definito gli ultimi dettagli tecnici, l'organizzazione degli spazi che è un po' abbastanza vincolata vista la monumentalità dell'edificio. E quindi definita questa fase, a breve si andrà a concludere la fase della progettazione definitiva, così anche per questa si procederà per l'espletamento di tutti gli elementi conseguenziali fino a giungere all'appalto.